Bentornati carissimi qui nello studio del dottor Sedray questo è un video sottovoce, un video che se non erro si chiama ASMAR acronimo che non so per che cosa stia lo faccio sottovoce un po' per simpatia e un po' per il coup de teatro che vedrete fra qualche minuto alla fine del vlog fondamentalmente faccio questo video solamente per darvi qualche aggiornamento come i più attenti si ricorderanno, come avevo annunciato in una live in questo periodo è avvenuto il trasloco della mia vecchia casa quindi il vecchio studio del dottor Sedray è stato spostato con delle dinamiche che non permettono di fare video come era come facciamo fino a prima e quindi cambieremo alcune cose però vedremo nel futuro adesso stiamo organizzandoci una delle opzioni è quella che vedete alle mie spalle però poi valuteremo adesso quali saranno le soluzioni migliori per quanto concerne i video adesso a breve uscirà un video per la settimana del Nobel come ha annunciato Marco Coletti sulla sua pagina Facebook con il post che immagino adesso starete vedendo aggiunto in post produzione e faremo anche qualche live come avevo già detto magari faremo una live per la fine di dicembre a gennaio ricominceranno i video per il canale del dottor Sedray direi che questo video sussurrato ci ha causato abbastanza inquietudine nei miei poveri iscritti quindi io riassumendo vi rivedrò al video per il Nobel il targato e tutti hub insieme a Marco Coletti e a molti altri dell'organizzazione dell'associazione e ci rivedremo sicuramente per una live prima della fine del mese e a gennaio ricomincieremo con i video sui filosofi un saluto sussurrato dal vostro pom 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 grazie a tutti